Chiara Ferragni e Fedez, la verità sul gesto shock che ha cambiato tutto. Ciao amici, avete sentito le ultime sui Ferragnez? Sembra che la rottura tra Chiara Ferragni e Fedez sia ufficiale. Dopo mesi di silenzio social, entrambi hanno ripreso a pubblicare regolarmente. Fedez si è confidato in un'intervista a Francesca Fagnani su Belve, svelando retroscena sulla crisi con Chiara. Fedez ha lasciato l'attico di City Life dove viveva con la famiglia e si è trasferito in una nuova casa a Milano, segno che una riconciliazione sembra lontana. Vivono vite separate e fanno viaggi separati anche con i figli. Le rispettive famiglie stanno cercando di far tornare il sereno tra Chiara e Fedez, ma sembra che le cose siano più tese che mai. Pare che abbiano smesso di seguirsi sui social e ci sono voci su un blocco da parte di Fedez verso Chiara a causa di alcune persone che lei ha iniziato a seguire. Rumors a parte, è certo che i genitori di Leone e Vittoria non si seguono per più su Instagram. Inoltre, Chiara ha bloccato i commenti ai suoi post a causa delle critiche e degli insulti ricevuti. Che ne pensate, siamo arrivati al capitolo finale della saga dei Ferragnez? Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa storia che tiene tutti con il fiato sospeso. Iscriviti al canale, metti un like e attiva la campanella.